c'era hai fatto torero oh cazzo ma quanti cazzo sono tu? davanti cazzo ma puttana manca l'ultimo ua le spalle vedendo che non l'era vista porco zio e di pompa se ce li avete non lo so io non ho tre di pompa pregascio uh la safe eh anche a posto cazzo ah c'è la macchina qua fuori tanto c'ho due ciamone 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 arrivo se mi vedate due macchine che cazzo sono? terra uno la sento sopra no no cado ultimo no no se vi serve il te date gli dai una gab non so come si usa però l'impulso dai se la spicciati tutti i due dai ok se facciamo quindi pingati pingati però come si usa l'impulso la miglianza è rezzata la spara in terra eh vabbè ok ma non muo no ma ha minato fuori porca puttana ai ragazzi for comestina pingati dai ci sono gli alberi che ci fanno protezione se quando dovremmo abusare eh quando poi dobbiamo prendere l'altezza ovони cedìmo lanciarazzi tutto a frigolare con un lanciarazzi questo pro sta bene bel e qua non siamo in seccolyn qua sei lì? com'è sa che l'hanno visto credo mi sa che l'hanno visto sì ma hanno fricolato infatti qualcosa mi dice l'hanno visto crackato uno qua stiamo in safe e coperti oh uno è bianco quello è bianco angelo sii e si gode crackato uno finito eliminato buonissimo e qua stiamo in safe e coperti è giusto io sono scesi sono scesi sono scesi eccoli non è come stiamo da me da me uno è quasi morto morti tutti mamma raga da quella distanza gli ho fatto 62 col col pompa nuovo 1 ma è non ha senso sta roba ma che vuol dire barilozzo 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 siamo 4 contro 3 solo che loro hanno l'altezza con la mitraglia ora l'ho fricolato tanto stanno in qualche cespuglio giallo so qualco best eccoli dove non li vedo angelo terra 22 ritardati ritardati 22 da te gab morto 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 ok morto 26 e si gode per me è coronata arma più forte del gioco ha giudicato bas non è una montagna no c'è un sacco di gente ma non ho un'arma ah proprio perderei si perde easy easy fiocina ragà ma sto vedendo che tutti stanno iniziando a usarla ma che cazzo è passi in casa sta sotto minchia dove è stato voi porco 2 angelo ma che cazzo si è un nuovo campione si è diventato porco ma che cazzo ha distrutto tutti quella pio in maniera assoluta qua basso ci sono colombacchia e corriamo verso angelo eccola eccola claccato vediamo verso la safe ragbolt guarda è morto c'è sé no no ah c'è gente che sta prendendo la zipline là Forse qua sta No Perché questa è notcata Ed è un altro Sono sotto Andiamo lì sotto Sì Sotto c'è gente A terra uno No raga What? Ci sono due team Quasi morto l'altro Gabba Ci sono quelli davanti a te Più altri alle spalle Io mi sono messo un attimo Nel cescuglio Guardo Qua? Stanno arrestando l'amico Terra Baga non è che ci avete Scudoni C'ho cura? Io c'ho tutto Stefano Non so C'ho il pomo Dei posto Eh va bene Va bene Non ti preoccupare Finiamo Gabba Prenditelo Prenditelo Gabba Stefano Ne tengo 5 Non faccio niente Assalda Però rompete l'albero 30 30 30 ancora Lo pusho 4 contro 1 Contro 2 121 Quasi morto E si gode Minchia Dove è ancora nata L'albero Quasi morto Quasi morto